buongiorno ragazzi per chi volesse sostenere il canale degli esonerati che è il mio canale ovviamente gli esonerati giuse 10 sapete ormai benissimo che potete farlo gratis iscrivendovi è un semplice click ed attivando la campanellina detto questo si la riposto non ho fatto in tempo giuse eccolo qua detto questo per chi volesse far parte della nostra chat è altrettanto gratis qui non si spende nulla per parlare di inter perché per come la vedo io l'inter è di tutti gli interisti gratis nulla contro chi chiede soldi per fare due chiacchiere con i tifosi nulla contro chi chiede soldi donazioni perché sennò poi si rientra in polemiche in cui non voglio più rientrare ognuno è giusto e faccia quello ritiene giusto fare a me se volete fare un regalo lo sapete oltre ad iscrivervi al canale potete andare in un gattile in un canile sempre se siete predisposti ed adottare un animale perché decine di persone grazie all'inter non grazie a me decine di persone grazie all'inter che comunque mi ha dato modo di farmi conoscere su youtube perché io sono conosciuto per quel poco e sono conosciuto grazie all'inter non certo grazie a me quindi grazie all'inter ho potuto far sì che molte persone ripeto predisposte perché gli animali non sono oggetti che metti lì e spolveri io ho due io un cane e un gatto molte persone hanno adottato degli animali quindi per me questo vale centomila donazioni questa roba qua questa cosa qui per me vale centomila donazioni scannerizzate quindi il code perché ora lo tolgo perché mi dà noia perché bisogna guardarci in faccia anche se c'ho il cappellino e gli occhiali perché bisogna parlare di una cosa seria io penso che molte persone che ci attaccano tipo il milan tipo la juventus allora innanzitutto te eh non puoi più stare zitto questo silenzio questo regime cinese a me ma a tanti tifosi dell'inter intera stancato perché non si era mai vista un inter così remissiva addirittura tohir rispose alla juve tohir andatevi a vedere la risposta di tohir alla juve dove disse non accetto critiche da voi noi siamo una società pulita qui non parla nessuno e alla e dai signori della juve compresi gli avvocati che hanno fatto un esposto visto che c'è libertà di parola andava detta una determinata cosa ragazzi molto semplice che la juve oltre a poter comprare i giocatori perché lo abbiamo letto no lo hanno scritto da tutte le parti perché non poteva comprare i giocatori ripeto lo hanno messo anche nero su bianco perché falsificava i bilanci quindi non avrebbe potuto comprare quei giocatori ma grazie a quei giocatori parteciperà al mondiale per il club prenderà 50 milioni dalla partecipazione grazie a quei giocatori che non poteva comprare in più parteciperà anche alla champions league perché terza in classifica questa non era una risposta da dare signori dell'inter io non voglio fare responsabile della comunicazione non mi interessa ho già il mio lavoro ma io comunico con chi devo comunicare io non sto zitto perché questo atteggiamento remissivo non porta a nulla ma in cosa sta sfociando questo atteggiamento atteggiamento remissivo e vergognoso e poco rispettoso verso tutti i tifosi dell'inter perché ormai si sono incazzati tutti i tifosi dell'inter io voglio ricordare solamente una cosa ragazzi a noi che teniamo a questo non voglio fare polemia però io voglio ricordare una cosa che i compiti di un amministratore delegato tra i compiti tra le funzioni di un amministratore delegato c'è anche quello di difendere l'onorabilità della società che rappresenta scritto è nero su bianco perché qui il vomitatoio io lo chiamo vomitatoio ha superato il limite e bisogna tutelare l'inter e i tifosi dell'inter perché a me della cina e del regime cinese non me ne frega una bella sega capito perché qui c'è da tutelare i tifosi dell'inter che ormai sono tutti incazzati perché te vedi tifosi da poltrona come me che sono che si incazzano che difendono l'inter e vedi chi la deve difendere sta zitto non dice nulla e non va più bene tutto questo perché perché c'è una proprietà inesistente che è piena di debiti fino a qualsù ma cos'è che non capiscono cos'è che non capiscono i nostri avversari non capiscono che questo sistema ce lo permette come a te caro giuventino ti ha permesso falsificando i bilanci di comprare certi giocatori che ti farà andare in champions e prendere soldi e che ti farà andare al mondiale per club a prendere soldi solo e noi non abbiamo falsificato i bilanci noi abbiamo i debiti questo sistema permette di avere un tot di debiti se poi te mi dici che tanti presidenti di serie a soprattutto quelli che investono si sono rotti le scatole di vedere l'inter che accumula debiti che ha una proprietà inesistente che fa sempre bilanci negativo perché purtroppo anche quest'anno chiuderemo negativo e che le altre società si impegnano un po di più perché si impegnano un po di più perché ragazzi debiti ce li hanno tutti ma dipende come ce l'hai debiti e dipende che potenzialità hai avendo dei debiti perché se te hai dei debiti come noi che il sistema lo consente è tutto a norma ma però non puoi fare conferimenti di capitale cioè te sei te sei sulla strada della banca rotta o sì tutti hanno i debiti sì ma chi è che ha un presidente nulla tenente che non può fare conferimenti di capitale solo noi anche se siamo nella legalità noi dobbiamo sottolineare che siamo nella legalità poi sia io che i ragazzi del team ci tengo a dirlo questa gestione non la cioè non è che non l'appoggiamo siamo totalmente contrari a questa gestione del club disastrosa a parte risultati perché oltre ai risultati c'è altro il calcio noi lo vediamo a 360 gradi perché poi arriviamo a un certo punto che ti fermi perché non si è mai visto gestire società di calcio per anni senza investire facendo solo debiti non si è mai visto e noi non possiamo essere il primo caso quindi io da un lato posso anche capire i nostri detrattori ma i nostri detrattori va ricordato quello che ha fatto la juve ora va ricordato che poi la finanza non è da noi ragazzi la finanza in casa del milan noi abbiamo tanti debiti sì ma il sistema lo permette se poi te mi dici perché quegli altri devono fare bilanci positivo investire voi non investite non fate nulla non mettete soldi su quello è un altro discorso io sono il primo a riconoscerlo ma bisogna riconoscerlo che a la finanza ce l'avete voi in casa b la juve grazie a tutta la storia dei bilanci ha potuto comprare dei giocatori tramite i quali ha preso 50 milioni per la partecipazione mondiale del club e tramite i quali giocatori non poteva comprare parteciperà alla champions league quindi mi dici di cosa stai ragionando ora io però chiedo più rispetto per i tifosi dell'inter perché non è possibile che qualsiasi persona si svegli la mattina ci tiri le tami addosso e stanno tutti zitti perché a fare così a parte che l'agnello verrà mangiato dal lupo ma fare così che noi sappiamo che non è vero fai pensare anche ai qualcosa a nascondere fai pensare c'è il culetto sport come si dice in toscana quando noi abbiamo tutto lì fuori del culetto sport ciao